La Torres espugna l'Abbatini di Genzano grazie ai gol di Scotto e D'Ametto in apertura e fa suo il big match con la Cinzia Alvalonga, nonostante l'uomo in meno per un tempo e il gol di Angelilli nel finale. La gara parte subito col botto, dopo nemmeno due minuti infatti, Scotto prende la mira dal limite e con un destro chirurgico fulmina Santilli sul primo palo per l'immediato vantaggio sardo. Passano tre minuti però e la Torres raddoppia. Punizione apparentemente innocua di Piredda, Santilli sbaglia la presa bassa e apparecchia il comodo tapin da 0 metri di D'Ametto per lo 0-2. I laziali fanno fatica a creare gioco e al ventisettesimo rischiano addirittura di subire il terzo gol, ma Santilli è bravissimo questa volta a dire di no a Scotto ben appostato a due passi dalla porta. I Sardi invece gestiscono senza problemi il doppio vantaggio e alla mezz'ora vanno a centimetri dal terzo gol con Bianchi che calcia dai 30 metri e chiama Santilli a una grande parata in calcio d'angolo. Passa un minuto ed è Diachite a trovare lo spazio per la conclusione dal limite, ma il pallone finisce alto. Al trentaseiesimo Scudieri mischia le carte e mette dentro Roberti per Allegra, ma è sempre la Torres a divorarsi il terzo gol con Cuiabi, che lasciato clamorosamente solo in aria sul cross di Piredda calcia addosso a Santilli in uscita disperata. La possibile svolta dell'incontro arriva a una manciata di secondi dal duplice fischio, con Bianchi che viene cacciato da Mallardi dopo un fallo col piede a martello su Nanni e la Torres che rimane in 10 per tutto il secondo tempo. La ripresa si apre senza cambi e con la Cinzia al Balonga che si riversa nella matacampo Sarda a caccia della rimonta. Dopo tanta battaglia e poche emozioni, a 7 dal novantesimo la squadra di Scudieri riapre la partita. Punizione tagliata di D'Agostino dalla destra e incornata perfetta di Angelilli, che anticipa tutti sul primo palo e rende incandescente il finale di gara. Finisce dunque con la Torres in trionfo davanti a 50 stoici tifosi giunti dalla Sardegna e ora a meno 5 dalla vetta. Crisi nera invece per la squadra di Scudieri, K.O. per la terza volta di fila e lontana già 11 punti dal Giuliano Capolista. Grazie a tutti.